Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno. Un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. L'autopsia ha rivelato che Sharon non ha avuto il tempo di reagire. L'attacco è stato rapido e violento, forse perpetrato con un oggetto da cucina. I carabinieri stanno seguendo due ipotesi. La prima pista riguarda la vita privata di Sharon, la sua professione e un suo presunto legame con una comunità. La seconda pista suggerisce che l'omicidio possa essere stato commesso da un killer che, dopo aver agito, è svanito nel nulla. Un elemento di particolare interesse è un uomo in bicicletta ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Potrebbe essere la chiave per risolvere il caso, ma nessuno sembra averlo visto in prima persona, lasciando pensare che si tratti di una persona del posto. Gli investigatori stanno cercando di risolvere altri enigmi. I genitori di Sharon hanno dichiarato di non sapere nulla riguardo. Un elemento sorprendente è emerso dalle indagini. Un uomo è stato messo sotto inchiesta non per omicidio, ma per falsa testimonianza. Nel frattempo, si attendono i risultati di ulteriori esami tossicologici e dell'analisi di un capello della vittima, che potrebbero fornire indizi preziosi sul suo passato. Sembra che il vero colpevole è, stato probabilmente una persona di sua conoscenza, ma questo è tutto da scoprire. E voi, cosa ne pensate? Cosa avrà spinto Sharon ad uscire così tardi? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore!